La corsa al tricolore rally si fa sempre più spumeggiante con la tappa che apre la seconda metà di stagione a Roma. Nella capitale il romagnolo Simone Campedelli insieme alla navigatrice Tania Canton faranno il proprio debutto con la nuovissima e fiammante Ford Fiesta R5 derivata direttamente dal WRC Plus fornita da M Sport. Il pilota Cesenate è impegnato a risalire la china dopo il quarto posto scaturito dal disastro avvenuto per problemi tecnici e non nella prova valida anche per il mondiale WRC in Sardegna. In testa alla classifica si sono quindi issati la coppia Basso-Granai su Skoda Fabia con 49,5 punti tallonati appena tre lunghezze sotto da Rossetti Mori a bordo della Citroen C3. Gli alfieri delle Panteralate sono quindi scalzati al terzo posto con 39,5 punti ma in virtù della doppia valenza italiana ed europea del quinto turno del campionato saranno presenti tanti big sulle strade capitoline. Ora resta da capire l'impatto che avrà la nuova R5 a sostegno di Campedelli Canton provato una sola volta sul bagnato. La sfida alla vetta è tutta da vivere da qui a fine stagione.